Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Fortnite per parlare della nuova stagione Fortnite OG che inizierà il 3 novembre 2023 Per un breve periodo ritorneremo al capitolo 1, dalla stagione 5 alla stagione X per 30 giorni E adesso andiamo a vedere il pass battaglia, come sarà, tutte le nuove notizie, tutti i nuovi leak che hanno pubblicato su Telegram Allora, tutti i leak che vi sto per mostrare sono partiti da ieri, dal 31 ottobre, cioè Halloween Allora, il primo leak della stagione 5 è stato questo Successivamente ne hanno mandato un altro, che è stato quest'altro Un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, per poi formare un'immagine Questa immagine qui, che sarà l'immagine di caricamento della prossima stagione Poi, qualche minuto dopo, sono state leakate delle skin che potrebbero essere presenti nel prossimo pass Che sono esattamente queste skin Però ragazzi, dovete prestare moltissima attenzione a quello che vi sarò per dire adesso Perché le skin che vi ho fatto vedere prima non saranno presenti nel prossimo pass battaglia E attenzione, sì, saranno quelle, ma non quelle originali del capitolo 1 Saranno rielaborate Ad esempio, Lillwipe sarà affosa con Bonanita Lynx con la rete Kid Rider Ragnarokton Omega Cavaliere Rosso con la rete Ghiacci Scintilla E leader Squadra Coccole con Corvo Però, leader Squadra Coccole con Corvo non è presente nel pass Non so perché, mi sarebbe piaciuto vedere nel pass Perché comunque è una bella skin Però, vabbè Parlando di pass battaglia Tutto quello che sappiamo sul pass battaglia di Fortnite oggi È che avrà 50 livelli Ci saranno ricompense aggiuntive Non ci sarà una skin segreta di mezza stagione Continuerà a utilizzare il sistema delle stelle Però il prezzo non è ancora noto, non si sa Potrebbe costare 850, 900, 600, 200, non si sa Parlando sempre di skin in fusione Il nuovo starter pack sarà la fusione di Ranger dell'amore perduto e prigioniero Interessante, infatti io non vedo l'ora che esca perché lo vorrei scioccare Parlando di armi Dicono che ritornerà il pompa del nonno G e lo scar Con la prossima stagione, ovviamente Ritornerà il tattico Poi ritornerà il lancio razzi vitato E il lancio granate quadruplo Mamma mia rega, che armi Però purtroppo lo G, H o D L'interfaccia sarebbe Non tornerà nella prossima stagione Ok, vabbè Sti cavoli, basta che ritornano a mappa vecchia Le armi Però ragazzi Ritornando all'immagine Cioè la key art di Fortnite O'G E' una prospettiva diversa della prima key art di capitolo 1 Questa cosa non l'avevo notata Brava Epic Brava veramente Una genialata sta roba Poi ragazzi Poi ragazzi Queste qui saranno le prossime pagine del pass battaglia E' quelle qui, ve le sto mostrando E ho visto questo Lix Che parlava del ritorno degli airdrop nella prossima stagione Oh rega da quanto tempo che aspettavamo il ritorno degli airdrop Ormai è della stagione 2 Del capitolo 4 Che non ci sono più i airdrop Perché sono arrivati Questi macchinari Che non mi ricordo nemmeno il nome Perché non li uso mai I quali danno delle armi Va bene, si Bello per carità Quanto possa essere bello Una cosa del genere Però airdrop E va bene ragazzi Detto questo Noi ci rivedremo nella prossima stagione Ciao ragazzi